è stato un pensiero stupendo e come ogni pensiero stupendo nasce un po' che facciano io però sono a mossa per salvare la comprensione stava di dare sempre un giro e far parlare a lui tutto il giorno e gli ascolti che aumentano per voi come la prendete? gli ascolti che aumentano è che nel giro di 15 anni arriviamo a far fare degli ascolti quasi vari a quelli dell'assistente avete detto che Baudi fate un utico ad altri, questa grande macchina a mano? sì, è vero, cosa mi chiedi? contentissimo però adesso io devo andare subito a letto perché altrimenti questa sera sul palco dell'Aristandolo appena salto invece di cantare entra c'è una novità per questa sera ma ci saranno delle sorprese c'è un fatto straordinario, canteremo e suoneremo invece di presentare esatto, con l'orchestra qualcuno ci potrà trovare questa sera qualcuno ci potrà trovare un po' superati però perché?